La città di Spoltore ha ricordato questa mattina l'ex assessore pescarese Giovanni Contratti e lo ha fatto intitolandogli una via che dal municipio scende verso l'ex convento. Assessore del comune adriatico negli anni 70, Contratti, a Pescara salì agli onori della cronaca per aver denunciato per primo l'inquinamento del fiume della Val Pescara, venendo poi emarginato. Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento a mio nonno. Il nonno era innanzitutto un medico, un bravissimo medico e aveva portato comunque la sua passione, la sua serietà anche nel ruolo politico che aveva ricoperto negli anni 70. Purtroppo era una lotta veramente impari contro i Colossi da Montedison. Era stato lungimirante, perché era in un periodo in cui non c'era questa attenzione nei confronti dell'ambiente come può esserci adesso. Quindi è stato veramente un precursore, un pioniere dell'ambientalismo che adesso invece è più sentito. E aveva ragione, effettivamente. Lui diceva, mi ricordo anche a casa, che il fiume era avvelenato e aveva ragione. Quindi ne vedeva già i possibili grandissimi danni. Nel che ricordo ha di suo nonno? Era un nonno molto affettuoso, giocoso anche, quindi ne ho un bellissimo ricordo. E poi è proprio la sua passione, i suoi racconti da medico che aveva vissuto un po' di tutto dall'essere maggiore medico nell'esercito, aveva gestito gli ospedali da campo, quindi fatto le cose più disparate, aveva affaire chirurgici di tutti i tipi, doveva fatto anche il medico condotto. E i suoi racconti mi hanno talmente affascinato, mi hanno trasmesso la passione per la medicina e sono diventata medico anch'io. Alla cerimonia di intitolazione, presente tra le tante autorità, anche l'ex presidente della commissione d'inchiesta di bussi, Giovanni Legnini. Dobbiamo essere grati a lui e dobbiamo considerare la sua attività, risalente a molti anni fa, come un monito per l'oggi e per il futuro, in una fase nella quale la transizione verde, la transizione ecologica, costituisce l'obiettivo primario del nostro paese e non solo del nostro paese. In questo momento dall'esterno, le chiedo, secondo lei, su bussi si sta facendo quello che si dovrebbe fare o si sta perdendo ancora del tempo prezioso? Finalmente pare che la bonifica parte, finalmente.